Moviamoci! Voi! Voi! C'è entrato! Hanno ferito il radiofonista, non possiamo contare su di lui! Veicolo nemico distrutto! Li abbiamo danneggiati! Non soaps, è un po' e un po' e un po' l'unico! ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Bel colpo! L'abbiamo preso! Li abbiamo danneggiati! Centrato! Corazzato nemico danneggiato! L'abbiamo preso! Corazzato nemico danneggiato! Colpito! L'abbiamo preso! Corazzato nemico danneggiato! Centrato! L'abbiamo acceso per bene! L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! Corazzato nemico danneggiato! L'abbiamo preso! È il colpo! Corazzato nemico danneggiato! L'abbiamo preso! È il colpo! Corazzato nemico danneggiato! Centrato! bel colpo centrato